pochi hanno chiare le origini e le motivazioni di questa ideologia che oggi ha raggiunto punte di isteria e di fanatismo assoluti per questo leggiamo insieme un capitolo del libro pianeta terra benvenuti all'inferno vincitore del premio letterario nazionale equilibri per la saggistica all'inizio del secolo scorso due erano i problemi che i nostri mandriani eschenaziti si trovarono ad affrontare il primo era costituito dalla inadeguatezza della famiglia struttura sociale per eccellenza nei confronti dei nuovi bisogni dell'economia di produzione il secondo era dato dalla maggiore consapevolezza e capacità cognitive delle mandri occidentali frutto di inaspettato benessere del conseguente accesso all'istruzione e della realizzazione di ascensori sociali che consentivano di scalare il sistema di potere altrettanto pesanti stavano divenendo i troppi diritti nel campo del lavoro acquisiti a prezzo di secolari lotti operaie un carico eccessivo per i costi di produzione di conseguenza era necessario resettare la società umana con sapienti interventi peraltro già previsti dal progetto i protocolli dei savi di sion e da praktischer idealismus del conte ricard kunhoff kalerci di fondamentale importanza furono i nuovi mezzi di comunicazione che si aggiunsero ai libri e ai giornali il cinema la radio e soprattutto la televisione capaci di alienare ulteriormente la mandria dalla realtà diffondere notizie sapientemente orchestrate e creare nuovi paradigmi esistenziali a un'economia che cambiava doveva corrispondere una società adeguata nel secondo novecento da un sistema ancora prevalentemente agricolo industriale si stava passando all'economia dei servizi seguita da un ulteriore massivo inurbamento della popolazione nuovi metodi e tecniche di produzione richiedevano capacità nuove la crescente importanza del lavoro impiegatizio imponeva mano d'opera prevalentemente femminile perché più metodica più precisa più rigorosa e se necessario più spietata di conseguenza le donne dovevano abdicare alla funzione di moglie di madre per divenire disponibili ai nuovi ruoli imposti dal mercato del lavoro si doveva perciò smembrare la famiglia tradizionale snellirla renderla più liquida e precaria preferibilmente eliminarla del tutto in cambio si concedeva l'edonismo e l'erotismo che erano in grado di attenuare la frustrazione dovuta alla perdita di questa fondamentale sicurezza il piacere prese quindi il posto della serenità le emozioni quello dei sentimenti il materialismo attivo introdotto due secoli prima bene si sposava con le nuove condizioni sociali e le giustificava carpe diem divenne lo slogan più abusato in quel periodo furono così imposte nuove ideologie enormemente amplificate dai nuovi media che condizionarono le masse ad accettare quanto in alto si era deciso la seconda ondata del femminismo che si era assopito con l'acquisizione del diritto di voto ottenuto dalle suffragetti all'inizio del secolo negli anni sessanta si concentrò sulla pretesa frustrazione del ruolo domestico delle donne e sulla mercificazione del corpo femminile a risvegliare le coscienze delle casalinghe furono il libro della inevitabilmente aschenazita betty e naomi goldstein meglio conosciuta come betty freedom mistica della femminilità nel 1963 che esaltava la donna nel mondo del lavoro l'attivismo di gloria steinham anch'essa schienazita paladina dell'aborto co fondatrice della rivista femminile ms l'opera di kate millet autrice di sexual politics il movimento si organizzò presto in due filoni il femminismo liberale e il femminismo lesbico che vedevano il loro genere come classe oppressa sfruttata e subalterna alla società maschile anche l'infanzia fu aggredita da questa ideologia al classico ciccio bello col quale la bambina giocando si preparava al ruolo di madre venne sostituita barbie non più figlia ma proiezione della bambina stessa in età adulta sofisticata giovane donna in carriera barbie prodotta da un'azienda sull'orlo del fallimento mattel di cui era proprietaria la schienazita di origini polacche ruth handler nata mosco divenne molto curiosamente in un istante famosa in tutto il mondo un successo planetario che dura ancora adesso tanto profondamente questo massacro ideologico fu fatto penetrare nell'inconscio collettivo che oggi questa corrente di pensiero viene data da tutti per naturale e scontata si raggiunsero così importanti risultati si creò una frattura sociale insanabile tra uomini e donne non più solidali e complementari ma ostili tra loro la collaudata tecnica del dividi et impera anziché pagare come si era fatto finora un salario sufficiente al capofamiglia per mantenere moglie e figli si divise tra i due sessi la stessa cifra raddoppiando così la forza lavoro a costo zero rendendo economicamente indipendente la moglie si solleticò il suo desiderio di promiscuità sessuale e di libertà che la faranno divenire sempre meno adeguata ai doveri materni si infrantumò di conseguenza l'istituto familiare base sicura di una società vera e coesa ultima difesa dell'individuo nella difficoltà della vita Contemporaneamente iniziava la rivoluzione sessuale che avrebbe drammaticamente modificato i comportamenti riproduttivi della mandria la sessualità uscì dalle relazioni monogamiche dal matrimonio vennero accettate la perversione omosessuale e la pornografia il sesso perse la valenza naturale di strumento riproduttivo per conservare unicamente quella edonistica non più di sesso si trattava ma di erotismo sfregamento di genitali e commistione di umori che sempre più spesso escludevano l'affettività valori secolari come la fedeltà, il pudore, la riservatezza e la verginità vennero etichettati come ridicoli e obsoleti in breve il numero degli americani non sposati tra i 20 e i 24 anni passò da 4,2 milioni del 1960 ai quasi 10 milioni del 1976 ne fu da meno lo sforzo esplicitamente realizzato per annullare la consapevolezza residua della mandria attraverso personaggi carismatici e simbolici dello star system in particolare della musica rock si incentivarono modelli di comportamento distruttivi ma emozionalmente potenti che avevano in comune l'estraniamento dal mondo reale droghe sintetiche, cocaina, eroina, alcol e sballo divennero e sono rimasti doverosi per la gran parte degli adolescenti la canzone Cockney, Sex and Drugs and Rock and Roll titolo che dice già tutto divenne la bandiera delle nuove generazioni sesso, droga e musica ossessiva non solo estraniano dalla realtà ma inducono al tempo stesso profonda dipendenza un capolavoro di socio-ingegneria anche lo Stato, le istituzioni intanto facevano la loro parte insegnanti selezionati prevalentemente fra donne e gay costantemente indottrinati conculcavano a loro volta le giovani generazioni fino dall'asilo scuole primarie, secondarie e università si piegavano a programmi di istruzione non più gestiti dai governi ma direttamente dalle corporazioni globali in pratica dai mercanti usurai l'istituzione europea Erasmus creata nel 1987 chiudeva il cerchio completando il lavaggio dei giovani cervelli ai diritti sociali che passarono in secondo piano insieme all'istituto della democrazia vennero subdolamente sostituiti i diritti cosiddetti civili in realtà l'arrogante imposizione di egoismi personali talvolta addirittura di reati divorzio, legalizzazione della droga, aborto, matrimoni omosessuali utero in affitto e eutanasia mentre si cominciava a tollerare la pedofilia vivi pure da animale ma non disturbare chi governa questa è la filosofia di base della nuova narrativa offerta alle masse in Italia la battaglia venne condotta in prima linea dal partito radicale e dal suo capo il dissoluto e vizioso Marco Pannella finanziato dallo speculatore aschenazita George Soros in quegli anni si distinse in particolare Emma Bonino che fondò a Milano il centro di informazione sulla sterilizzazione e l'aborto e si auto accusò di avere fatto abortire oltre mille donne col metodo pericoloso e brutale della pompetta da biciclette fece una settimana di carcere ed entrò in Parlamento nel 1973 sempre col partito radicale nel 1993 si concretizzò la sua alleanza con Soros venne invitata alle riunioni dell'elitario gruppo Bilderberg in seguito appoggiò le guerre per esportare la democrazia e le guerre umanitarie dell'impero anglo-americano nonché l'immigrazione incontrollata fino a divenire ministro italiano e commissario europeo come si vede si è trattato di uno straordinario attacco concentrico cui era impossibile sottrarsi potenziato da vecchi e da nuovi mass media che è inutile dirlo erano e sono esclusivamente nelle mani degli Ashkenaziti ancora una volta l'alibi universale che trova sempre entusiasta e disponibile la mandria è il progresso, la modernità i tempi che cambiano ai quali ai noi ci dobbiamo adeguare grazie